I giorni scorsi la diga sciaguana nel territorio del comune di Egira è stata svotata ed oggi del tutto in secca dalle prime informazioni lo svaso sarebbe stato deciso dal consorzio di bonifica 6 di Enna, gestore del bacino. Lo spettacolo che adesso si presenta agli occhi tutti è terribile. Il lago non esiste più, al suo posto una distesa di fango e limo, teatro di una vasta moria di fauna ittica con centinaia di esemplari ormai agonizzanti nelle residue pozze d'acqua in via di prosciugamento. Per il WF Sicilia Centrale si tratta di un vero e proprio disastro ambientale. L'invaso sciaguana ospitava una diversificata ed abbondante fauna ittica rappresentata tra gli altri da Carpa, Garassio, Persico, Trota, Luccio, Tinca, senza contare le importanti popolazioni di anfibi che vivono in questi laghi che comprendono anche specie tutelate a livello europeo, nonché i numerosi uccelli acquatici, anche nidificanti di specie migratorie tutelate ai sensi della legge 157 del 92, la avifauna selvatica costituente del patrimonio indisponibile dello Stato ed anche a livello comunitario ed internazionale. Per questo motivo il WF stamani ha notificato via Pecca ben dieci enti diversi in un lungo ed articolato esposto in cui si denuncia il disastro ambientale in atto presso la diga. Nel contempo l'associazione ambientalista ha chiesto al Consorzio di Bonifica di accedere agli atti per comprendere i motivi e le responsabilità di dare devastante scelta. Oltre che all'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, all'autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e dal libero Consorzio Comunale di Enna. WF Sicilia Centrale ha chiesto l'intervento del Centro Anticrimine Natura e del Nuclelo Investigativo di Polizia Ambientale e Agriglamentare e Forestale, il NIPAF dei Carabinieri, Forestale di Catania.